buongiorno a tutti ragazzi in questo periodo in cui non si fa altro che parlare della snyder cat ecco che sto per girare un video sempre a tema zack snyder però per parlarvi di quelle che sarebbero dovute essere le trame dei successivi seguiti di justice league vi ricordo prima di iniziare con questo video che se non avete ancora sentito la mia sulla snyder cat penso di no perché ne ho parlato tantissime volte però vi ribadisco che sul canale troverete sia la mia recensione sia una live di quasi tre ore con tanti ospiti in cui ne abbiamo discusso ma che per di più nelle info di questo video troverete allegata anche un'altra live sempre sulla snyder cat con altri ospiti alcuni dei quali erano anche sul mio canale sul canale però di andrew cinema 98 quindi non perdetevi questa nuova diretta nel caso vi interessasse il link è qua sotto ma ora bando alle ciance e vi insomma voglio regalare le trame di quelli che sarebbero dovuti essere i seguiti di justice league e voi potreste chiedermi paolo ma come fai a conoscere le trame di questi ipotetici sequel beh perché zack snyder intervisti intervistato da vanity fair li ha rivelati quindi questo ci fa presumere che se veramente prima o poi questa diciamo linea alternativa della snyder cat dovesse continuare sicuramente riscriverebbero tutto da principio perché non penso che girerebbero dei film di cui già ci hanno rivelato la trama intanto c'è una mosca che continua veramente di fronte alla videocamera a muoversi che mi sta letteralmente rompendo le scatole ma vabbè andiamo con ordine allora iniziamo a parlare di ciò che sarebbe dovuto accadere in justice league 2 dark side sarebbe arrivato sulla terra per distruggerla per cercare l'equazione antivita come già sappiamo nel frattempo il nostro superman pronto a sconfiggerlo insieme alla lega della giustizia avrebbe chiesto al suo caro amico bruce wayne alias batman di proteggere lois lane zack snyder ha rivelato che lois lane sarebbe stata importantissima in questi film avrebbe fatto proprio da fulcro alle pellicole quindi il nostro bruce wayne accetta subito decide di onorare la richiesta dell'amico anche se poi ci sono arrivate delle voci che inizialmente nelle prime stesure addirittura ci sarebbe dovuto essere un rapporto amoroso tra bruce wayne e lois lane addirittura avremmo scoperto che il figlio di lois lane non era di clark bensì di bruce wayne quindi pensate un po voi sinceramente su carta questa cosa non è che mi convincesse molto poi magari mi avrebbe convinto su schermo però penso proprio di no meno male questa cosa è stata accantonata ma torniamo a quella che è la trama bruce accetta di proteggere lois fino a che poi purtroppo un giorno dark side la ucciderà la ucciderà perché l'ex luther che nel frattempo si è unito a dark side a dark side gli rivela che il punto debole di superman è proprio lois lane e quindi come colpire superman uccidendo la persona che ama la cosa che sicuramente avrebbe portato poi superman alla nascita no del superman cattivo che già abbiamo visto nel nightmare del finale di justice league la cosa che lo fa diventare cattivo sicuramente si può attribuire alla morte di lois ma anche al fatto che batman non sia riuscita non sia riuscito a proteggerla specialmente zack snyder rivela che nel momento in cui lois viene uccisa batman si sarebbe potuto sacrificare per salvarla in una scena di un litigio cioè si parla di una scena in cui i due stanno litigando batman si sarebbe potuto sacrificare per salvarla però non ha il coraggio e quindi distratto dalla situazione fa sì che lois che avrebbe dovuto proteggere perda la vita questa cosa ovviamente farà andare su di giri il nostro superman che perderà il lume della ragione e diventerà il nemico della justice league alleato di dark side quindi sarebbe diventato quel superman che noi già abbiamo visto sia nel nightmare di batman v superman sia nell'incubo di justice league cosa sarebbe accaduto poi dunque il nostro cyborg sempre più potente sempre più a conoscenza dei propri poteri avrebbe studiato una delle tre importantissime scatole madri per riuscire a ricavare un'equazione che permettesse a barry allen flash di tornare indietro nel tempo per avvertire bruce wayne alias batman di ciò che sarebbe successo e quindi facendo capire che la chiave di tutto sarebbe stata lois lane facendo percepire al nostro bruce che quindi avrebbe dovuto sacrificarsi per non andare incontro a ciò che realmente è successo nel presente dove superman è cattivo dove dark side ovviamente è al controllo di tutto quindi praticamente ci saremmo ricollegati all'incubo che bruce wayne ha avuto in batman v superman ricorderete non la scena in cui barry allen si palesa flash si palesa per rivelare che la chiave di tutto sia lois lane ecco che questa cosa riesce e ci sarebbe il collegamento con i film che abbiamo già visto dopo tutto ciò ovviamente batman apprendendo la situazione una volta arrivati al momento fatidico a differenza della volta precedente si sacrifica si lascia uccidere salvando lois lane salvando lois lane ovviamente la situazione cambia il messaggio che flash porta dal futuro nel passato serve per cambiare il presente attuale e quindi il nostro batman dovrebbe morire e quindi la nostra lois lane dovrebbe salvarsi e quindi superman non dovrebbe diventare cattivo e alleato di dark side non soccomberebbe all'equazione antivita ed ecco che quindi dark side si ritroverebbe da solo a dover affrontare la justice league o perlomeno ciò che è rimasto della justice league nel film finale invece acqua man guidando gli atlantidei wonder woman guidando le amazzoni e superman guidando gli esseri umani avrebbero combattuto il nostro dark side in una guerra gigantesca in una guerra infinita cioè mi immagino veramente quanto il terzo capitolo potesse essere a livello anche di azione a livello di battaglie a livello anche di effetti visivi quanto potesse essere gigantesco poi mi immagino con lo stile di zack snyder che si sa può essere amato può essere odiato comunque il terzo capitolo di questa justice league si sarebbe dovuto basare prevalentemente su questa enorme battaglia gigantesca e sicuramente catastrofica ovviamente però come vi sarete resi conto io ho parlato del succo della vicenda ora come ora tralasciando tutti quegli espedienti di trama e tutte quelle dinamiche che avrebbero portato all'arrivo di dark side sulla terra e a ciò che poi sarebbe scaturito andiamo con ordine adesso prima dell'arrivo di dark side sulla terra avremmo visto un lex luther che crea la sua squadra dell'ingiustizia chiamiamola così ricorderete anche la scena post credit con joe manganiello deathstroke sullo yacht in cui si parlava di creare una lega no la lega dell'ingiustizia questa lega sarebbe stata composta da doctor poison captain cold black manta ocean master e l'enigmista quest'ultimo avrebbe scoperto l'equazione antivita e risolvendola sarebbe impazzito e si sarebbe ucciso di fronte a batman sconvolgendolo come poi vi ho già detto lex luther si sarebbe alleato con dark side nel momento in cui dark side fosse arrivato sulla terra batman avrebbe protetto lois lane perché superman gli affida questo compito senza sapere che tra i due comunque fosse nata un'attrazione una relazione quando dopo batman superman il nostro clark kalel in realtà si era sacrificato quindi anche qua in base a ciò che leggiamo su certi su certi siti sembrerebbe confermata la storia d'amore che c'è stata tra bu tra bruce e lois da altre parti invece sembra che questa storia fosse proprio invece stata cancellata e smentita dallo stesso snyder quindi non lo so se voi sapete la risposta definitiva perché avete letto tutto ciò da una fonte certa ditemelo perché ripeto su certi siti sembra realmente che questa storia d'amore ci sia stata su altri no comunque sappiamo che il nostro batman non sarebbe riuscito a proteggere la nostra lois sempre in justice league 2 sia wonder woman sia acquaman sarebbero dovuti morire come così come noi percepivamo nel nella visione che già aveva avuto cyborg nel primo justice league ma per di più anche nel nightmare ambientato cinque anni dopo sul finire di justice league anche flash in justice league 2 avrebbe rischiato di morire per mano di captain cold se non fosse stato salvato da cyborg gravemente ferito quindi diciamo che justice league 2 sarebbe dovuto essere molto tragico con la morte dei nostri amati protagonisti ovviamente ripensandoci mi viene in mente un po anche ciò che poi è stato fatto in infinity war e poi nel game in infinity war vediamo la morte di alcuni storici personaggi che poi torneranno in vita in end game almeno la maggior parte di esi quindi anche le trame sarebbero state sotto certi aspetti molto simili sul finire di justice league parte 2 poi ci saremmo spostati cinque anni dopo praticamente durante gli eventi del nightmare justice league parte 3 invece sarebbe iniziato con l'arrivo sulla terra di lanterna verde pronto ad aiutare i nostri eroi come poi vi ho già detto nella parte iniziale il nostro cyborg avrebbe studiato una delle scatole madri per permettere al nostro flash di tornare indietro nel tempo però per recuperare questa scatola madre ci sarebbe dovuto essere uno scontro tra flash e superman uno scontro molto sanguinolento uno scontro in cui il nostro batman sarebbe stato ucciso poi il nostro flash sarebbe riuscito a tornare indietro nel tempo a parlare con bruce wayne con batman che apprendendo la situazione si sarebbe comportato in modo diverso e quindi avrebbe salvato lois lane ma sarebbe restata immutata la sua morte quindi in un modo o nell'altro batman sarebbe dovuto morire quindi batman sarebbe stato il tony stark l'iron man della dc con questo messaggio di flash che ovviamente avverte bruce wayne batman si sarebbe quindi creato un nuovo futuro un futuro che avrebbe dato vita a questa gigantesca battaglia una gigantesca battaglia dove dark side sarebbe stato sconfitto dove wonder woman acquaman ma a questo punto anche harley queen non lo so è perché sappiamo che sul finale di justice league si parla anche della morte di harley queen quindi se è cambiato tutto anche lei si sarebbe dovuta essere salvata però comunque in questo nuovo futuro si sarebbero salvati acquaman lois lane wonder woman l'unico che si sarebbe sacrificato lo stesso sarebbe stato proprio il nostro bruce wayne batman quindi la sua morte comunque sarebbe dovuta esserci si sarebbe sacrificato per il gruppo e tutti insieme avrebbero sconfitto però dark side e quindi queste sono un po le trame di questi due sequel che non vedranno mai la luce perlomeno con questa trama qua certo sarebbe stato bello vedere una cosa del genere su grande schermo sarebbe stato bello vedere mettere in scena una trama così corposa come questa che avrebbe avuto tanti aspetti in comune con infinity war ed endgame quindi già mi immagino quante critiche sarebbero state lanciate addosso all'operato di snyder ma la vera chicca di justice league 3 l'avremmo trovata nel finale un finale che si sarebbe svolto vent'anni dopo gli eventi che avevamo visto fino ad allora e in questo finale avremmo scoperto che il figlio di lois lane e di superman sarebbe diventato il nuovo batman ma un batman molto più forte perché oltre ad avere il costume dell'uomo pipistrello avrebbe comunque avuto i poteri del padre di superman quindi un batman con la super velocità con la super forza e quindi il finale di justice league 3 avrebbe veramente sicuramente omaggiato la figura di superman e la figura di batman unendole insieme fondendo insieme questi due storici personaggi e io una cosa del genere l'avrei vista veramente tanto volentieri e sicuramente mi sarei emozionato e sicuramente mi sarei gasato tantissimo poi non so se questa cosa potesse appassionare e colpire anche tutti i detrattori di snyder però so solo che questi sono i dettagli che sono stati rivelati sulle trame di justice league 2 e justice league 3 io sinceramente li avrei visti volentieri questi film tutto sommato visto che hanno rivelato le trame sono convinto che se veramente ci saranno dei sequel totalmente saranno diversi perché non penso proprio sia possibile che girino dei film con le trame che hanno già rivelato però insomma sono curioso di sapere se voi avreste voluto vedere questi film con queste trame secondo voi come sarebbe potuta essere la messa in scena secondo me zack snyder avrebbe potuto avrebbe potuto girare delle meravigliose scene d'azione la cupezza sarebbe stata onnipresente l'aspetto dark gli slow motion sarebbero stati odiati da tanti questi film ma anche amati da tanti altri quindi niente in questo video ve ne ho voluto parlare ma soprattutto sono curioso di sapere la vostra quindi fatemi sapere ci vediamo alla prossima e vi ricordo che nelle info di questo video troverete il link per seguirmi su tutte le mie pagine social ma per di più per abbonarvi anche al canale e abbonandovi scegliendo la vostra fascia di prezzo potreste ricevere tanti contenuti extra in cambio oltre alla normale programmazione quotidiana un caro saluto noi ci vediamo alla prossima recensione ciao ciao